Raffaele Grandiniero, il portiere della Versa Normandi ha iniziato una nuova avventura per te, un'altra società campana, innanzitutto come ti stai trovando in questo nuovo ambiente? No, mi sto trovando bene perché comunque sia una società organizzata, ognuno sta al proprio posto, si lavora in maniera serena, la macchina organizzativa funziona bene, il mister è bravo, è giovane, ha voglia di arrivare, quindi penso che ci siano tutti i presupposti, il presidente oramai è esperto della categoria, il direttore è una persona navigata, quindi ci sono i presupposti per fare bene. Avete iniziato benissimo perché avete conquistato tre punti contro ogni pronostico, adesso però si diceva che viene il difficile perché vi dovete confermare. Allora io porto dal presupposto che i tre punti di domenica sono importanti in chiave salvezza perché ottenuti contro una squadra dove difficilmente le nostre pari faranno punti, quindi da questo punto di vista è importante. Nel calcio c'è bisogno di memoria corta, quindi bisogna subito archiviare, anche perché arriva subito una partita importante dove non possiamo lasciare punti, altrimenti faremo in modo che tutto quello che abbiamo fatto domenica lo buttiamo al vento. Bisogna prepararsi bene, guardare partita dopo partita, considerando anche il fatto che in una settimana si giocherà per tre volte, quindi questa è una cosa nuova per parecchi e bisogna tenerla in considerazione. Tre partite in una settimana possono dare tanto entusiasmo vista se le cose andranno in un certo modo, ma possono far sì che si creino dei problemi nel momento in cui non li affronti con il piglio giusto. Dall'altro della tua esperienza l'Isola Liri è una squadra sostanzialmente giovane, però lì davanti ha due giocatori di un certo spessore come in Prota e Tedesco. Tu a portiere in qualche modo li riconosci, li hai visti nei filmati, ci hai anche giocato insieme? Allora, i filmati sì li abbiamo visti, già da un paio di giorni il mister ci sta facendo, stiamo preparando la partita, abbiamo visto vari DVD, ma al di là di questo penso che il problema principale sia sempre legato a noi, nel senso guardo in casa nostra, loro sono una squadra che per certi versi ci assomigliano, ci hanno 4-5 esperti, poi il resto tanti buoni giocatori, però soprattutto under, quindi ci assomigliamo un po'. Il problema è che, guardo in casa mia, in quanto se facciamo la stessa prestazione come mentalità, come determinazione che è quella là di Perugia, che penso che per il momento questo deve essere il nostro campionato, allora potremmo giocarcela, anche perché giocare contro queste squadre blasonate come il Perugia è sempre più semplice rispetto ad affrontare una pari merito. Anche l'Isola Liri è andato a Firenze, è andato a momenti, pareggiava la partita contro la Fiorentina, perché nascono nuovi stimoli, nuove motivazioni. Su questo non dobbiamo essere bravi e diventa, secondo me, queste partite qua sono fondamentali, perché poi alla fine si sommano tanti di questi piccoli punti che si devono fare anche contro queste squadre e faranno la differenza, in positivo o in negativo, anche perché questo è un campionato particolare, in quanto sono 40 squadre e nessuno in questo momento è in grado di fare giudizi su squadre che possono andare in difficoltà, a media salvezza, eccetera. in quanto sono 40 squadre.